Quindi, ripeto, 1990 è il livello ultimo su un orizzonte temporale di medio-lungo da dover monitorare attentamente, se dovesse lo standard in purdo violare oggi sulla volatilità o domani sui non-fanperols alle 14.30, violare tale livello, occhio che una chiusura settimanale di sotto di tale livello potrebbe innescare una dinamica correttiva nel medio. Andiamo avanti, DAX, questo è un grafico orario del DAX, perché questo? Perché abbiamo tre punti di contatto su questa vecchia tre line supportiva, primo punto da cui abbiamo fatto un primo short speculativo in area 9.500, ha ritestato ieri in area 9.650, oggi rimbalzo ultimo in area 9.715. Adesso per il momento sta tenendo il mercato e pare voglia andare a rivedere i massimi di giornata, a mio avviso da questo punto poteva partire uno short speculativo, è ancora in essere, verrebbe negato solo la violazione di tale livello. DAX comunque vedete in rialzo come tutto il mercato equity, poi vedremo anche Milano che ritorna a testare proprio in questi minuti l'area 21.200, quindi è molto molto comprato, ovviamente fa da padrone tutto il settore bank, sia lo stock 600, se vedete un grafico dello stock 600 che rappresenta lo stock 600 bancario, tutte le banche a livello europeo che è un fuzzi bancario italiano, vedete il netto rialzo che stanno mettendo a segno le banche, perché? Perché la manovra di Draghi va a pulire in sostanza tutti i bilanci interbancari a livello europeo, sicuramente chi ne fa da padrone in questo momento sono i periferici europei, parlo di Italia, parlo di Spagna, Portogallo, Irlanda, tutte le economie che sono state più penalizzate da questa politica del rigore messa in atto dalla Germania in tutti questi anni. In sostanza quello che sta accadendo sul rapporto di cambio euro-dollaro è palese, è una vendita, è una svalutazione, c'è stata un'ulteriore svalutazione del cambio, abbiamo raggiunto un minimo in area 29.94, da lì rimbalza un po', per il momento a mio avviso non mettersi contro, non provare adesso posizioni a long su tale contratto, tutti i rimbalzi sono buoni da vendere, come dicevo l'altro giorno anche qui un rimbalzo fino a 32.80 che non c'è stato e tutti ci aspettavamo un rimbalzo fino a tale livello, non c'è stato, avrebbe dato luogo, avrebbe dato vita a dei contratti, a degli ulteriori posizionamenti di vendita da tale livello per servirlo ancora fino a 1,30 euro. Non è stato così, il mercato ci ha anticipato e è andato a fare il target operativo proprio in linea col 50% del movimento complessivo del bienio. Vedete questo rialzo, il rialzo del contratto euro-dollaro strutturale dal 2012 a oggi, adesso ormai sta invertendo il segnale. E' inutile dirvi che pericolo, o meglio, ritornare in acquista su tale contratto solo sopra 1,33 adesso, parliamo di questa fase di contrattuale. Fin quando il prezzo non torna sopra 1,32,95, 1,33 è inutile parlare di rialzo su euro-dollaro perché tutti i rimbalzi sono da vendere ancora. Questo è per ritornare sul... vediamo anche il dollaro contro altri cambi valutari, vediamo contro il franco svizzero, è andato a target, anche il franco svizzero siamo arrivati al target operativo di periodo, parlo di aria 0,92,50. Vedete 50% del movimento complessivo, anche qui biennale ribassista, il rimbalzo ormai è in essere e si sta muovendo in uno strutturale canale rialzista di medio-lungo termine. Anche qui, per durata la fase al di sopra dell'area di percomprato, quindi questo è un sinonimo di rafforzamento della pressione rialzista. Ciò che ci dicono gli indicatori è questo, ad ora il target è stato fatto, vediamo ora come si comporta nella chiusura di settimana il dollaro al raggiungimento di tale livello, a mia visora per chiudere le posizioni a rialzo su tale strumento e attendersi ulteriori sviluppi del prezzo su tale strumento. Come sull'euro dollaro non consiglio di mettersi qui al ribasso, perché come ben sapete questo è inversamente correlato, quasi perfettamente correlato, quindi vedendo tale movimento non posso che adesso consigliarvi di ridurre l'esposizione long su tale strumento. Vediamo il dollaro contro yen, il dollaro yen ha scontato prima il movimento degli altri, sicuramente è stato quello che è partito prima in questa settimana rispetto agli altri cambi valutari, si è apprezzato vistosamente proprio ieri al raggiungimento di aria, e ve lo faccio vedere qui, aria 105-105,50, non è riuscita a violare i massimi annuali in area 105-50, per il momento è laterale ma rimane sempre molto alto. Quindi comunque l'acquisto di dollari nell'ambito mondiale si è sentito, si è sentito parecchio, anche se voi riuscite, se avete sulle vostre piattaforme il grafico paniere che rappresenta il dollar index, vedete proprio l'andamento verticale che può avere tale strumento, se riesco a farvelo vedere da un'altra piattaforma, forse via da questa, è chiaro quello che posso dirvi, dollar index, vediamo se ce l'ho qui, eccolo, questo è il contratto, guardate il dollar index, il index che apprezzamento ha avuto oggi, batte 83,40 attualmente, quindi è soltanto un acquisto di dollari partito da fine luglio. Da fine luglio il dollaro è stato comprato a mani basse contro tutte le valute internazionali, contro le principali. E questo grafico che ne rappresenta l'andamento, rappresenta l'andamento del dollaro contro tutte le altre valute, ne è un esempio. Quindi dollaro yen, monitorare attentamente l'area massimi annuale che stiamo battendo in queste giornate, 105,40, 105,45, se dovesse violare anche tale area, ci serve un grafico weekly per capire dove potrebbe poi avere un prossimo target, area 110, parlo dei massimi nel periodo Lehman Brothers, cioè parlo dei massimi in area di settembre-ottobre 2008. Il prossimo livello che potrebbe intercettare, se dovesse riuscire a rompere tale congestione su una dinamica più ampia, parliamo di un grafico settimanale, il prossimo livello target per questo movimento è i 105, quindi altre 5 figure in rialzo. Ad ora io sono un po' restio a dare dei target così importanti, però graficamente, guardando i grafici, e analizzando quelle che sono le movimentazioni di tali strumenti, vediamo che poi se dovesse violare area 105,50, dollaro yen poi è impostato a rialzo verso questo target. DAX, ritorniamo sul DAX, DAX vedete alto, molto alto ancora, i massimi sono lontani, il massimo di giornate a 17, 9.717, 9.718, batte adesso 78-79. Su una dinamica oraria, attualmente, aggiornando il nostro livello e il nostro indicatore, mettiamo un 6,5 per avere una dinamica più chiara, anche qui vedete ancora sporco la volatilità, non riesce a reggere tali escursioni, il nostro indicatore non riesce a leggere tali escursioni di prezzo. Purtroppo oggi è stata una giornata molto molto volatile, guardate, io sto cercando un moltiplicatore che rega la volatilità, non c'è su questa dinamica, vediamolo più in stretto, ecco, fino a quando è sopra, nel medio lungo, area 9.350, 9.400, è inutile parlare di DAX a ribasso nel medio periodo. Nel medio periodo si sta muovendo in questa dinamica, rialzista, vedete dall'8 di agosto, da quando è partito il rimbalzo, primo punto di contatto, il minimo dell'8 di agosto, a ridosso dei 9.000 punti, primo punto di rimbalzo, secondo punto di rimbalzo, il 14-15, il giorno di ferragosto, vedete, il 15 di agosto, in area 9.050, da lì è partito a rialzo, e non si è ancora arrestato tale rimbalzo. Avevamo trovato in questa settimana un punto cruciale dove si è invertito un po' la rotta, il future ha perso due punti percentuali, parlo di area 9.600, però vedete, è stata totalmente invalidata ieri e oggi di nuovo. Occhio ora alla tenuta di tale massimo, se dovesse essere violato ancora sulla forza, i target sono importanti, 9.800, sicuro il primo target, 9.800 e 12 come massimo da dover tenere sotto occhio, se è violato questo si sale e si sale parecchio. Il tempo di vedere graficamente quello che si è, se rompe 9.800 si torna sui massimi di periodo, ragazzi, inutile dirvi ulteriori, è facile parlare su questi grafici, i grafici sono tutti rialzisti, vedete nel breve, nel breve ha rotto la congestione che aveva caratterizzato il periodo di fine giugno, inizio luglio, anche il mercato europeo tedesco. Andiamo per ordine, ritorniamo sul mercato americano, vediamo il Nasdaq, Nasdaq, vedete, è di nuovo partito verso l'alto, anche qui abbiamo aperto una posizione ribassista alla violazione di area 9.070-9.080, però probabilmente verremo stoppati alla violazione dei 4.110 punti, scusate. Lì abbiamo lo stop operativo e andremo in stop and revest di posizione. Ancora una volta. Questo ci fa capire come siano forti i mercati americani, occhio che domani è ancora una giornata molto molto cruciale, a mio avviso, domani sapete c'è il rilascio dei dati sul mercato del lavoro, il non-famperolso ogni mese e quindi per il momento dobbiamo attenderci degli ulteriori strappi a rialzo, perché questo è il sentimento in mercato complessivo attraverso anche l'analisi intermarket. Vediamo quello che sta accadendo anche su Milano, me lo chiedono in tanti, buongiorno anche a te Nicoletta, Milano, eccolo, Italy Cash, Italy Cash, guardate, siamo per essere stati, anche qui stavamo cercando di catturare il movimento ribassista al test dei 2.250 punti sulla parte alta del canale, graficamente è molto chiaro il canale che sta caratterizzando l'andamento di Milano, il target l'ha fatto, adesso l'aveva recuperato interamente, adesso sta tornando su, se dovesse violare anche aria 21.250, 21.300, Milano rompe a rialzo anche questa proiezione e per proiezione teorica avremmo poi ulteriori target sopra anche i 21.500 nel breve, si sale ancora, si sale a ridosso dei 21.925, da cui era partita la fase di storno. Purtroppo questo è un grafico che mi dà poco storico, quindi non vi posso fare l'analisi dettagliata sul prossimo target operativo, a mio avviso se dovesse avere la forza domani di chiudere la settimana in Milano al di sopra dei 21.300, si sale sicuramente fino a 21.925, 22.000 punti come livello psicologico e verrebbe negata interamente la figura ribassista che ha caratterizzato questo trimestre attuale. Occhio che ci avviciniamo anche alle scadenze tecniche sui future fra un po'. Mese cruciale, Nasdaq in ripresa, quindi sta piacendo al mercato, almeno pare questo, vedete anche lo standard Rampur, di nuovo sui massimi della settimana, 2008, stanno ritornando tonici anche tutti gli indici, vediamo anche il Dax, il Giappone, il Nikkei, mettiamo un profilo, il nostro solito formato, Nikkei su dinamica 4 ore, guardate riprende, rimbalza, rimbalza anche pesantemente, questa è la proiezione, per il momento ha rispettato il livello 15.600, anche la borsa giapponesa è in recupero, questo è il future che quota l'andamento del Nikkei. Prossimo target per la borsa giapponese è a ridosso dei 16.000 punti, 15.870, 15.880. Comunque questa è la dinamica di breve per lo strumento, fino a quando si mantiene sopra tale livello, a mio avviso anche sopra i 15.500 punti, è inutile parlare di ribasso su tale strumento, tutte queste fasi di debolezza sono punti d'entrata, sono buone per comprare gli strumenti. Ritorniamo sulla panoramica metalli auriferi, metalli, quindi beni auriferi, argento e oro, vedete, falso recupero dell'oro per il momento, ripeto, ritorno a dire, fino a quando non viene violata rialzo, area 1.303, 1.305, è inutile parlare di acquisti su oro, tutti rimbalzi, di nuovo fino a quando siamo in area, a mio avviso, 1.290, 1.285 si vende ancora con stop sopra 1.300, verso il successivo target ribassista, ovvero verso area 1.240, questa a mio avviso è la panoramica attuale sul mercato. vediamo l'argento, argento, guardate, spike di volatilità, fino a pochi minuti fa aveva recuperato quasi fino ad area 1.940, adesso ritorna molto basso sui minimi delle ultime due sedute di contrattazione, se dovesse violare il minimo fatto registrato in questa settimana in area 1.910, l'argento si scende fino al minimo in area 1.860, occhio all'argento, è uno strumento che comunque ci dà, che è riferimento proprio in questa fase di volatilità, di rischio, riaggiorniamo le proiezioni dinamiche, il mercato fin quando non torna sopra ai 1.960, a mio avviso è inutile parlare di acquisti sull'argento, stessa storia sull'oro, quindi ricapitolando un po' di prezzi, Euro-Dollaro, di nuovo verso i minimi di giornata, guardate l'Euro-Dollaro batte proprio 1.30, 1.30-0, 1.30-09, quindi sta battendogli 1.30, se viene violato tale livello si scende fino a 27.50 in poco tempo, neanche il 50% di Fibonacci ha tenuto. Euro-GBP, allora io a mio avviso ho già chiuso l'operazione sulla volatilità, proprio su questi livelli, in area 79-20, può proseguire fino a 78-85, è quello il vero target. Ad ora, per chi, per chi avesse replicato ieri l'operazione sul touch in area 0.80-0.79-90, siamo andati a target, conta Fabrizio che questo è un movimento del genere in 4 ore su un sintetico che ha bassa volatilità come questo, non si vede tutti i giorni, ci sono stati 60-70 punti base fatti in pochi minuti, in poche ore, comunque strutturalmente ribassista e di nuovo ribassista il cambio. L'euro sterlina ritorna in acquisto solo alla violazione dell'area 0.80 e abbiamo avuto un'ulteriore conferma di tale movimento, proprio adesso. È inutile dirvi che qui stanno scendendo entrambi, sia sterlina contro dollaro che euro contro dollaro, si sta sicuramente difendendo meglio la sterlina e lo vediamo dal grafico dell'euro-dollaro. Ormai qui puoi già iniziare a ridurre l'esposizione, se non vuoi proprio andare a target operativo vuoi tenertela perché il movimento ormai l'ha fatto, tieniti un 30% di esposizione e tutto il resto liquida perché comunque il vero target in area 0.70-0.80 magari ti torna su prima e sarebbe un peccato rimaggiarsi tale gain in così poco tempo. Per fare un gain del genere, parliamo di una posizione del genere 70 basis point, quindi parliamo di uno 0.60 di equity, uno 0.60% di cambio, ci vogliono 4-5 giorni in posizione di spread in volatilità classica, in termini di volatilità media dello strumento. Oggi ovviamente vuoi per le notizie di draghi, vuoi per il depreciamento strutturale dell'euro, l'operazione è andata in profitto. Prima del dovuto per un movimento del genere è molto molto importante su uno strumento come quello. Ecco perché noi diciamo sempre lo spread trading va fatto con volumi diversi dai volumi semplici che si usano sull'operazione singola, intanto Standard & Poor's di nuovo coin, occhio che il Nasdaq sta per andare a mettere in discussione anche il nostro super trend, sopra area 4100 ci sarebbe l'inversione, verremo stoppati come operazione ribassista. Vediamo l'AudiUSD, AudiUSD viola il doppio massimo, 93.75 è stato violato al rialzo proprio adesso, se dovesse confermare tale candela a 4 ore una chiusura sopra area 93.90 è long fino a 94.50, 94.70, quindi prosecuzione del rialzo. E' l'unico cambio che non sta perdendo contro dollaro se ci fate caso, perché il franco svizzero è stato molto deprezzato contro dollaro, lo yen stessa storia, euro anche, sterlina anche, l'unico cambio che non perde anzi guadagna contro dollaro è l'australiano. Intanto vi comunico che i bancari italiani sono in netto rialzo, continuano, hanno recuperato di nuovo, dopo un primo storno, dopo una prima fase di vendita si attestano di nuovo sopra intesa 2,40 euro e unicredit sopra i 6,25, il FIB, il future sul FIB batte adesso proprio 21.250 a livello di book, livello di prezzi, occhio a questo livello, se dovesse essere violato oggi è pericoloso per gli shortisti, perché da qui violando questo livello si sale ancora e si sale seri, si sale sicuramente fino a dare 21.925-22.000 punti, quindi si parla di un 2,5% o 3% di possibile prosecuzione del trend real system. Questo è quanto, scusatemi un attimo. Controllo i dati operativi, i dati sui servizi, parliamo del PMI Service rilasciato da Market, e l'ISM manifatturiero, che voglio ricordare a tutti, questi fanno quasi più del 70% del prodotto interno lordo americano, quindi il PIL come strutturato viene strutturato da questi dati, questi sono fondamentali, più della manifattura a mio avviso e voglio controllare proprio come sono usciti, anzi se potete scrivermelo via chat, senza che perdiamo molto tempo. Milano comunque batte ancora in testa, 21.250, il book è pieno. Probabilmente verremo stoppati, anzi alziamo lo stopper di qualche altro PIP. Ecco, allora, gli ADP, ADP positivi, o meglio, sempre sopra le 200.000 unità, ma sotto le attese, quindi questa è una prima uscita di dati sul mercato del lavoro americano, importante per domani, comunque sono buoni, comunque si mantiene sopra le 200.000 unità, però sotto la previsione, quindi non abbattuto le stime. Vediamo adesso i dati sui PMI finali dei servizi, sotto le attese anche questi, sotto le attese, comunque positivi, sempre sopra i 50, ma sotto le attese, sotto il precedente dato, scusate, però comunque in linea con le attese, vediamo l'ISM non manifatturiero, batte anche il dato precedente, continuano a salire, quindi sono positivi i dati americani, quelli di oggi, attendiamo domani, ma a mio avviso probabilmente anche domani almeno andranno in linea con le attese i dati sul non-farm payrolls, quindi per il momento Standard & Poor's di nuovo verso i massimi di settimana, se viola area 2010-2011, aggiorna un altro record storico, vediamo il Nasdaq, Milano in area 21.251 adesso, intanto l'argento sta di nuovo tornando verso i minimi di seduta, DAX, andiamo sul DAX, occhio al DAX, di nuovo verso area 9.700, se dovesse violare oggi in chiusura anche area 9.720, da cui era partita una prima fase di vendita o di liquidazione di profitti, potrebbe poi portarsi velocemente verso i 9.800-9.815, quindi comunque ancora forte rialzo. Vediamo il petrolio, crude oil, recupera interamente la candela ribassista data sul dato, vedete il crude oil, ritorna in area, ve lo mostro su dinamica 4 ore, occhio ad area 96 dollari al barile, è inutile dirvelo, fino a quando è sotto 96 dollari il prezzo del WTI, è sempre ribassista il movimento, violato questo verrebbe negata la dinamica attuale ribassista del trimestre, quindi sopra i 96 dollari, se dovessimo domani assistere a una chiusura settimanale del WTI al di sopra dei 96 dollari al barile, potremmo attenderci un'inversione rialzista anche su tutti i beni correlati all'andamento del petrolio. Vediamo il Brent anche, Brent di nuovo vedete rialzo, ma ancora sotto la proiezione dinamica, per il Brent parlo di area 103, fino a quando siamo sotto i 103, 103.50 non c'è pericolo per chi sta shortando e chi sta seguendo il movimento del trimestre. Se dovessimo domani vedere un allungo dei future sull'andamento del barile, occhio che anche gli altri titoli, probabilmente anche Eni e Saipem iniziano a salire per il mercato italiano e tutti i beni correlati al mercato del petrolio. Brent crude oil l'abbiamo visto, occhio alla sterlina, come ben potete notare abbiamo un expert in posizione, abbiamo una macchinetta, la macchinetta che vorrebbe entrare in posizione al rialzo sulla sterlina, ma non è così, sono ormai 18 sedute che il prezzo è sotto la nostra linea di inversione e per il momento non entriamo in posizione al rialzo, in maniera contraria. Questo anche per fare un po' di didattica, qui tutti volevamo provare a intercettare il movimento rialzista della sterlina, ma il computer non legge dei dati al di sopra del livello da noi impostato e quindi non compra. Sono stop loss non presi questi e fanno saldo a fine anno. Vediamo delle domande, vediamo se ci sono domande in chat. Ragazzi potete incominciare a fare delle domande adesso, io ho ultimato l'analisi intermarket per adesso, vorrei vedere se ci sono domande e non le riesco a visualizzare. magari se... eccole... ok Fabrizio mi parlava delle... eh... Mauro... Mauro se ci sono problemi per... eh... scrivimi su support uptrend e risponderò alla tua domanda. Ritorniamo sulla panoramica, ritorniamo sui cambi, vediamo un attimo che sta accadendo sul dollaro franco svizzero che è arrivato a target. Occhio al dollaro franco svizzero, se viola 92, vedete anche qui 92,50 è stato messo in discussione proprio in questi minuti, se va a violare l'area 0,93 è rotto anche questo canale al rialzo e la prossima proiezione è il massimo decrescente relativo del 5 settembre dell'anno scorso, parliamo del livello 94,50, quindi per un cambio valutario parliamo di un apprezzamento di un 1,20, di un punto e mezzo percentuale che potrebbe esserci proprio sul finale di settimana. Guardate oggi che movimento ha fatto il mercato, ha fatto 100 basis point di rialzo, un cambio a volatilità bassa, un cambio dove c'è una volatilità giornaliera al di sotto dei 40 basis point, ha quasi triplicato il fattore di volatilità in giornata. È chiaro, è palese proprio l'andamento oggi anomalo rispetto ai movimenti di mercato mensili. Euro-dollaro molto molto ventuto, probabilmente oggi andrà a violare anche il minimo raggiunto in area 1,29,95, se viola questo livello continua, prosegue il ribasso. Vediamo le altre domande. Milano mi ha stoppato l'operazione, abbiamo alzato un po' lo stop, questa si mantiene ancora al ribasso, standard and pull sempre alto, vediamo Sterlina Yen, perfetto pullback ribassista ragazzi, è inutile dirvelo, qui ha fatto un perfetto pullback su dinamica daily, in area 173,80 e adesso pare che voglia proseguire verso il minimo del mese di agosto, parliamo del minimo in area 170,29, dai livelli attuali sono due figure, quindi magari posizionarsi ora è tardivo come intervento perché avreste uno stop di una figura e mezzo per un target di due figure, magari su un recupero delle quotazioni sul finale di settimana verso area 173,30, quello per voi sarebbe il segnale d'entrata. Prova audio, prova audio, mi sentite? Confermate che sia ok l'audio e il video, ve leggo in chat che c'è stato un problema col video, Fabrizio mi dice che è tutto ok, tutto in ordine, bene, ottimo, 60 secondi per le vostre domande e poi riparto con la video analisi. Ho letto adesso la domanda sui bancari, sì, a mio avviso per quello che è il movimento di mercato strutturale, io ora chiudei con Milano sotto resistenza, è in area 21.250, 21.280 per rispondere alla domanda su Milano, Milano ormai il target l'ha fatto, il target tecnico, il target era qui, quindi per il momento sì può raggiungere, può salire ancora, può fare ancora un 1%, forse anche uno 0,50, però probabilmente oggi siamo vicini al finale di settimana, domani ci sono importanti dati, ancora una giornata di importanti dati e attesa volatilità sui listini, magari oggi chiudere in gain non è sbagliato o ridurre l'esposizione, io oggi incasserei almeno il 60% del portafoglio sulle banche italiane, con Milano sotto resistenza 21.250, tecnicamente adesso si va a target, intesa oggi abbiamo dato segnalazione di chiudere in area 2.40, adesso sta violando anche i massimi di giornata, però questa è la borsa, noi tecnicamente lo sapete, statisticamente diamo dei target potenziali, a mio avviso questo è un target, chiudere adesso e riacquistare sulla debolezza, magari su un ritorno di banca intesa verso i 2.30, 2.35 si può provare a entrare ancora, sicuramente non consiglio lo short, assolutamente no. Ho visto anche le utility stamattina in forte rialzo, Stamattina ha violato il massimo in area 4.16, il doppio massimo fatto ieri in area 4.16, adesso sta violando anche la resistenza dinamica in area 4.25, sta guadagnando più del 2% anche Enel, Saipem sicuramente è molto venduta ancora, è l'unico titolo del listino che non sta giovando dalle parole di Draghi probabilmente. Mi chiedono di vedere un grafico dell'Eurostox, ci arrivo subito, Eurostox, Eurostox è più o meno la stessa situazione del DAX, vedete, netto rialzo su dinamica oraria, andiamo su un grafico giornaliero per avere un movimento più chiaro di mercato, Eurostox, guardate, è partito a rialzo, meglio ancora del DAX, probabilmente va a ritestare con domani l'area 3.300, 3.320 punti. Vediamo il DAX come si sta muovendo, occhio al DAX sta recuperando molto proprio in questi ultimi minuti, occhio al massimo raggiunto oggi in area 9.717, se è violato quello si sale ancora verso i 9.800, comunque il DAX è molto meno acquistato rispetto all'Eurostox 50, il grafico dell'Eurostox è molto molto tonico, il rialzo è ripidissimo, queste sono barre giornaliere, guardate oggi che cosa ha combinato, è tutto dire, penso che il grafico parli da sé. Troviamo dei punti d'entrata, punti di contatto per la dinamica rialzista dell'Eurostox, questo è un grafico orario, andiamo su un 4 ore, no niente, questo, ventaglio di supporti possibili, questo è troppo ripido a mio avviso, 3.200, fin quando è sopra 3.200 mantenere in posizione, questo è l'unico consiglio che riesco a darvi. Andiamo subito sul Bund, come no? Bund scadenza settembre, sempre se riesco ad aggiornare il grafico. Questo è l'andamento del Bund, pericolo soltanto sotto 150-50, i minimi parlano da soli. Il vero supporto poi è un po' più giù, sicuramente è a ridosso dell'area 150-149,95, però fin là può scendere, è una fase di debolezza giusta, è una fase di tracciamento che si attende su tale strumento, su tale strumento, però a mio avviso è molto tonico, magari questa è una fase dove si può acquistare ancora, si può acquistare ancora il bene rifugio. In area 150 avremo il nostro buy long sulla debolezza, anche in area 150-40 quest'area, con stop sotto 49-50 e si prova a comprare ancora verso i massimi, in area 151-70. Bund è sempre long da comprare e non da vendere. La vendita in maniera anche non corretta, perché l'andamento è questo, era qui. 151-12, adesso siamo a 40 tic di distanza dal prezzo, quindi non consiglierei adesso di tenere, se hai le posizioni a ribasso sul Bund, mantenerla fino al target, sicuramente almeno fino al minimo della settimana in area 150-50. Se viola questo minimo, prendi un bel profitto, altri 50 punti base. Dimmi in chat se è chiara l'analisi. Torniamo sulle valute, questo è l'Eurostock 50, guardate come continua a salire, pare proprio che vuole andare a testare l'area dei 3.300 punti, i massimi sono quasi in area 3.315-3.320, questo è il massimo che si è violato, il massimo del 6 di giugno da cui è partito lo short, il massimo dell'anno, si sale, le proiezioni sono altissime per questi strumenti. Per rispondere a Vincenzo, si hanno aggiunto anche il trading sugli indici, vedi io sono in posizione su Milano, occhio a Milano che sta rompendo, 21.320, il più ci arbatte più 2.420, occhio che si rompe qua ed è strutturale l'acquisto, Milano veramente la vediamo a 21.900 in poco tempo. Le parole di Draghi sono piaciute al mercato, è inevitabile, da quello che si evince da tutti i grafici, riscon, puro. Guardate Euro-Dollaro, 1.30 pieno, sto testando proprio in questi secondi, vediamo il grafico dell'oro, oro sempre lì fermo, ma non succede nulla, Nasdaq, Nasdaq è altissimo, va verso i massimi e probabilmente avremo stoppati anche su questa operazione. analizziamo altri cambi, vediamo anche il periferico spagnolo, occhio alla Spagna, anche qui ha violato gli 11.000, questo era il target a mio avviso ipotetico che doveva raggiungere l'indice spagnolo, ha violato brillantemente oggi anche tale livello e sta salendo, vedete la divergenza ribassista negata, anche qui avevamo un expert in posizione short, non è entrata la posizione e questo ci ha protetto, cosa che non abbiamo fatto su Milano, Milano è entrato discrezionalmente, guardate, minus valenza consistente, questo è quello che non paga, Euro sterlina ancora molto basso, il livello per me di chiusura operazione è proprio ridosso dell'area 0,79, 0,78, 0,80, occhio che se dovesse il cambio violare anche tali minimi, questa area di minimi, parlo del minimo di luglio del 22, si scende ancora verso, vedete prima la proiezione batte 79,20 ma a mio avviso se dovesse violare con forza di nuovo tale livello da cui è stato respinto in maniera efficace, vedete qui è stato ritestato il minimo in area 0,78, 90, però poi è ripartito forte al rialzo fino quasi ad area 0,80, se dovesse di nuovo in così poco tempo ritornare a mettere in discussione tale livello supportivo, si scende fino al minimo di periodo, il minimo annuale, parliamo di questo livello, 0,77, 50. Questo è in un'ottica di medio-lungo, questo è il canale che sta caratterizzando il movimento ribassista dell'euro sterlina dall'anno scorso, vedete agosto 27, 28 agosto il supertrend ha invertito il segnale del 2013, un anno fa. Vediamo euro yen, occhio ad euro yen, monitorate attentamente la tenuta dell'area 136, 136.15, se vi è messa di nuovo in discussione, vedete, questo era il minimo in area 136.15 di febbraio 2014, il prezzo si è appoggiato già una volta su questo, è rimbalzato sicuramente di una figura e mezza, però adesso vedete sta mettendo in discussione tale livello a mio avviso, quindi se il prezzo viola, brecca e chiude la settimana al di sotto di tale livello, bisogna iniziare a strutturare delle operazioni ribassiste sulla forza. Come era giusto fare su l'euro dollaro? Dopo la violazione di 1.33, 1.33 era il minimo del 7 novembre 2013, quando Draghi dimezzò il tasso di riferimento da 0.50 a 0.25, oggi ha fatto la stessa cosa, l'ha ridotto ancora, ha portato a 0 praticamente, e il cambio vedete che cosa ha fatto, 147 punti di basis point di candela ribasso, yen, occhio allo yen, yen è comunque stato acquistato, è quello che ha reagito prima rispetto agli altri cambi, quindi comunque l'ha fatta la salita rispetto agli altri, adesso è sotto resistenza annuale, quindi sotto il massimo dell'anno, se viola qui si sale e si sale bruscamente, può proseguire la sua andata di acquisti verso i target ambiziosi, come quelli di, vedete, parlo dei livelli pre-crisi subprime, parlo dei livelli Lehman Brothers, quando ci fu il fallimento di Lehman Brothers in area 110.70-110.50. Ritorniamo ad analizzare il crude oil, crude oil comunque in movimento non succede più di tanto, né va verso i minimi del mese, né torna sopra area 96, quindi monitorate per chi negozia il petrolio, il crude oil americano, area 96, 95.80 come livello di resistenza, nel breve, 92.60-92.65 come livello di supporto, il prezzo sta oscillando in questo range, fin quando non esce né da una né dall'altra non consiglio di operare sullo strumento, oppure si può provare in stretto trading ad operare sotto resistenza in contrarian, quindi vendendo e comprando ancora una volta il supporto. Vedete l'Ibex spagnolo, altissimo, probabilmente qui a mio avviso si potrebbe, si può pensare a prendere profitto, ecco, per chi negozia azioni, ma come sul paniere italiano, qui si prende profitto, non si consiglia sicuramente l'operatività ribassista, anche perché in un semplice super trend, moltiplicatore 2.5 sta giustamente seguendo il segnale rialzista partito dall'8 di agosto, anche qui dal rimbalzo di inizio agosto. Stimiamo dei possibili target per la sterlina, sterlina daily, il prossimo target è sul 38.2 di Fibonacci, qui l'andamento, quel retracciamento di Fibonacci è stato seguito alla perfezione a mio avviso, dal doppio minimo di luglio scorso in area 1.48,1,48,20, questo livello, vedete in luglio 2013, guardate la sterlina che apprezzamento, importante, il prossimo target è in area 1.62,60, 1.62,50, tale livello. proprio dove passa il 38,2% di Fibonacci del ritracciamento complessivo della salita annuale, rialzo solo sopra il 23% di Fibonacci, solo con un ritorno verso i 66%, lì verrebbe negata la figura ribassista, l'andamento ribassista attuale. Oppure ora al test di questo livello importante di prezzo, il cambio deve deprezzarsi ancora di una figura, deve arrivare a raggiungere almeno area 62,75, lì proverei dei posizionamenti contrarie, adesso no. Termina Yen l'abbiamo commentata, solo con un recupero verso area 73,30 entrere in posizione servendo ancora al ribasso il rapporto di cambio, sicuramente verso il primo target abbiamo storicamente il minimo del mese di agosto in area 170,50, 170,40, poi se dovesse essere violato anche questo abbiamo altri target intermedi, qui si può fare trading e anche in maniera corretta, fra l'altro la proiezione dinamica è stata perfettamente ritestata e da lì è venuto giù il cambio, sta provando a scendere più che altro. Consiglio prudenza, consiglio operazioni spread, sicuramente questa è una fase molto molto volatile di mercato, ne abbiamo visto qualcosa, oggi c'è stato un primo assaggio con Draghi, domani con il non fa per all's potrebbe essere anche peggio, quindi attenti, questa chiusura di settimana è importante. Abbassate il leverage, fate dei tentativi sicuramente, questo è strutturalmente impostato a ribasso, sterlina Yen, qui provare un posizionamento ribassista, stop sopra trendline, parlo di area 174, target sicuramente primo in area 170,40, secondo target a mio avviso già qui si può provare a fare target in area 69,50. Questo darebbe i canoni giusti d'entrata, o rischiamo un punto e mezzo, cioè rischiamo 150 basis point per possibili 300 di guadagno. Questo graficamente è quello che ci dice il rapporto sterlina Yen come contratto, analizziamo ancora una volta quello che sta accadendo su Milano, Milano 21.3, 21.325, Nasdaq, Dow Jones, Standard & Poor's 2009, si sale, si sale ancora, Nasdaq, Nasdaq anche qui sta per mettere in discussione anche il nostro Expert Advisor, 4101.50 darebbe il segnale di stop and reverse, è lo stop operativo e sopra i record storici fatti proprio in questa settimana. Riscon sui mercati, vedete anche qui, queste sono solo ricoperture, è stata una ricopertura di posizione sull'argento e si scende ancora, si batte verso i propri minimi di settimana. Occhio all'argento che se buca il livello 19.09, dollari oncia, si scende ancora e la dinamica è riscondo. Il prossimo target per l'argento è il minimo annuale in area 18.60. Ripeto, probabilmente questa dinamica ora, conti fatti, chi ci aveva dato i segnali giusti era la svalutazione dello Yen dell'altro giorno. Il dollaro Yen che era partito a rialzo ieri, già da ieri pomeriggio, c'è stato un vistoso apprezzamento del dollaro contro Yen, scusate. Questo ci fa capire come poi è stata scontata la notizia oggi in termini di propensione verso il rischio. E' chiaro, è facile parlare a conti fatti, però quello che ci dicono i grafici è questo. Se ci sono domande vi do gli ultimi 60 secondi per rispondere alle vostre domande, ai vostri quesiti, se no arresto la trasmissione. Attendo ancora 60 secondi e poi vi passo i saluti e commentiamo un po' quello che è il nostro nuovo servizio d'analisi sui mercati finanziari. Grazie. 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 Con oggi arresto la trasmissione, spero di aver dato delle giuste indicazioni, mi auguro almeno in termini di commento tecnico sui grafici, consiglio di mantenere la calma e di abbassare il rischio, di abbassare il leverage, di moderare l'operatività proprio oggi sotto i dati e domani. Proviamo a posizionarci solo lunedì. Questo è quanto. Non vedo altri quesiti in chat, arrivederci a tutti, un buon proseguimento di giornata, buon trading per la chiusura e a domani. Arrivederci a tutti, ricordo ancora i nostri servizi per chi volesse sottoscriverli, commerciale Chiocciola Uptrend, ve lo scrivo qui, chiamate il mio collega e il responsabile commerciale Maurizio Mancini. Per poter sottoscrivere, riparte da lunedì il servizio azionario, visto che molti di voi ci hanno mandato mail sul tale servizio, da lunedì ripartiamo, solo che anche questo sarà come il trading time sotto sottoscrizione. Arrivederci a tutti e a domani. Grazie. 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 Grazie.